Buonasera a tutti. E abbiamo sviluppato una certa esperienza nella distribuzione dei segnali da tv e satellite. Quello che farò vedere è una brevissima presentazione di alcune soluzioni generali a livello spot senza entrare nel dettaglio in relazione ai prodotti. Quindi vedremo delle soluzioni generali che vanno spero a carpire il vostro interesse. Informazione di servizio in basso, sulla barra in basso a destra c'è per far partire la presentazione. Ci siamo. Quindi, stavo dicendo, soluzioni tv e satellite è un'azienda che da oltre 50 anni porta la distribuzione tv e satellite all'interno di moltissimi edifici in tutta Italia. Abbiamo più di mille soluzioni all'interno del nostro catalogo. Quindi abbiamo soluzioni a partire dalla casa singola fino ad arrivare al condominio grande, piuttosto che al camping, piuttosto che alla soluzione hospitality. Soluzioni che non andremo a entrare in dettaglio. Adesso c'è il telecomando che non funziona. È arrivato. Come vi dicevo, siamo basati a Castelfranco Veneto, vicino a Venezia. Una prima domanda che ci facciamo è se l'impianto del nostro condominio è veramente smart. Voi tutti lo sapete meglio di me. Spesso e molto sempre più spesso le antenne sopra gli edifici sono là da 20 o oltre anni. Sono in condizioni abbastanza pietose, sono messe molto molto male. I nostri edifici, pertanto, non possono essere considerati smart ad oggi. Però vogliamo implementare queste nuove soluzioni andando a sostituire quelli che sono gli apparati esistenti, magari là da tantissimi anni, con soluzioni enormemente più efficienti, come detto finora. Con diverse soluzioni tecnologiche, tecnologiche che possono essere relative alla fibra, piuttosto che alle soluzioni IP, piuttosto che alle soluzioni coassiali. Perché indubbiamente non tutti gli impianti potranno essere applicabili alla fibra, se non altro non da subito, ma magari da domani ci potrà essere la necessità di avere una porzione di impianto rinnovata con un cavo coassiale o con più cavi coassiali per poi passare in un prossimo futuro alla fibra. È chiaro che noi tutti puntiamo ad utilizzare il massimo della tecnologia perché è la più vendibile indubbiamente. E questa è sicuramente la fibra perché in termini di larghezza di banda, di contenuto tecnologico è senz'altro la parte più innovativa. Una sola antenna sul tetto non vuol dire meno qualità, una sola antenna sul tetto vuol dire la stessa qualità ottimizzando quello che è l'impianto. Realizzando un impianto condominiale realizzato a regola d'arte, come detto finora, rispettando le normative sia ambientali che di impianto. E la qualità del segnale è esattamente la stessa, con nessuna differenza. In alcuni casi possiamo operare, per esempio, con, e dopo vedremo come, un contenuto in termini di lavori di muratura estremamente ridotto. Ridotto perché, per esempio, con la fibra come abbiamo visto prima e lo rivedremo dopo, abbiamo la possibilità di sfruttare la larghezza di banda da ripiazzando un numero di cavi coassiali, nel caso specifico, piuttosto che cavi categoria 5, molto molto elevato, attraverso l'utilizzo di un singolo cavetto in fibra. Ultima cosa, la libertà di scelta. Libertà di scelta perché? Con mille prodotti a catalogo voi siete liberi di scegliere come andare a ridistribuire segnali. Serve IP? Serve fibra ottica? Serve coassiale? Serve coassiale da 10, da 5, da 7. La soluzione è la vostra libertà oggi. Per avere un edificio a prova di futuro, indubbiamente, quello che noi consigliamo è la soluzione in fibra. Però chiaramente voi siete voi che lo andate a definire con il vostro cliente, che è magari l'utente finale, piuttosto che l'amministratore di condominio, quella che è la soluzione più applicabile alle sue esigenze. Ad oggi è possibile avere effettivamente un solo impianto, quindi, che contempli un impianto multiservizio, con tv, satellite, dati e tutti i servizi relativi alla distribuzione all'interno del condominio, su un unico canale di distribuzione, che indubbiamente può essere, facilitando le cose, la soluzione in fibra ottica. Giusto un accenno, come dicevo prima, con oltre 80 anni di esperienza, abbiamo sviluppato all'interno del catalogo un numero molto, molto elevato di soluzioni, che passano dall'antenna per l'impianto singolo all'antenna per l'impianto condominiale, piuttosto che antenne paraboliche, piuttosto che centrali per contesti ospitaliti, piuttosto che distribuzione da satellite o tv. Noi vogliamo essere estremamente vicini ai nostri clienti. Abbiamo un customer service dedicato, che risponde costantemente al telefono dalle 8 di mattina alle 18 di sera, dal lunedì al venerdì. Due persone dedicate, che rispondono al telefono, più altre due persone, che rispondono a eventuali vostri messaggi via WhatsApp. Quindi, qualora abbiate particolari esigenze, necessità particolari, vi serve cablare, o meglio, realizzare una soluzione per la quale non avete competenza specifica, avete necessità di informazioni maggiori, vi vito a chiamare il nostro customer service e noi vi indirizzeremo. Vi indirizzeremo come? Realizzando lo schematico per vostro conto. Non avete mai realizzato un impianto IPTV, piuttosto che in fibra? Vi andiamo a realizzare lo schematico e vi spieghiamo come farlo funzionare e come applicarlo all'effettiva necessità, all'effettiva esigenza, predisponendo per voi, andandovi ad aiutare, per la stesura dei cavi, piuttosto che dei cavedi, piuttosto che dello splitting. Tutte queste informazioni, chiaramente, sono anche raccolte per coloro i quali vogliono prendere visioni in maniera autonoma all'interno della nostra pagina web, piuttosto che all'interno del canale Facebook, piuttosto che all'interno del canale YouTube, dove andiamo a realizzare dei video demo per farvi capire quanto queste soluzioni possano essere facilmente applicabili, senza farci spaventare da queste nuove tecnologie. Facciamo giusto un esempio. Questo è un nuovo sistema di distribuzione in fibra ottica che abbiamo realizzato, all'interno della quale noi riusciamo ad andare a distribuire un numero molto elevato di satelliti, fino a 4, su un numero estremamente contenuto di fibre, con delle peculiarità che sono estremamente interessanti. Voi avete visto prima la differenza di attenuazione della fibra in rapporto al cavo categoria 5. Facciamo altrettanto con il cavo coassiale. Una fibra monomodale perde 0,3 dB al chilometro. Un cavo coassiale di 10 mm perde 30 dB a 100 metri. Queste sono le differenze, le proporzioni. Le proporzioni sono enormi. La fibra, forse non è stato detto prima, è realizzata da silicio e ossigeno, ma una delle qualità che ulteriormente va aggiunta è che ovviamente non ossida. Quindi non ossidando il cavo in fibra ha dei vantaggi enormi, soprattutto se utilizzati magari in strutture come campeggi, dove la presenza di acqua all'interno di tubature può essere deleteria per i cavi coassiali, piuttosto che per altri cavi di altre categorie. Questo è un esempio che noi portiamo spesso, per la quale una singola fibra va a rimpiazzare 17 cavi coassiali. Quindi abbiamo quattro polarità satellite, meglio, quattro posizioni orbitali, più l'intera banda digitale terrestre, all'interno della stessa fibra, utilizzando quattro colori, quattro lunghezze d'onda diverse. E mantenendo comunque una rete PON aperta per la distribuzione di eventuali altri servizi. Così facendo andiamo ad ottimizzare quello che è l'impatto del cablaggio all'interno di un edificio. L'impatto del cablaggio all'interno dell'edificio è un impatto estremamente importante. Un edificio intero di cinque piani, giusto per citare un esempio, per la distribuzione tv e satellite, vuol dire tirare sulla calata principale una cosa come 35 kg di cavo coassiale, dal quinto piano al piano terra. Passando la fibra, diversamente questa singola fibra, possiamo passare a una fibra che pesa meno di un chilogrammo, con dei vantaggi innumerevoli in termini di spazio, di volume e di tempi di lavorazione dell'impianto. Prima citavo l'esempio del camping, perché l'esempio del camping è uno dei più favorevoli per quanto ci riguarda per la fibra. Il camping molto spesso rimane chiuso per sei, quattro mesi, anno. E l'aspettativa del proprietario del camping è che alla pentecoste arriva, accende l'impianto e tutto funziona perfettamente. E magari molti di voi sanno perfettamente che questo non succede quasi mai. Arriva, accende l'impianto e bene o male forse la metà funziona. La fibra di vantaggi estremamente importanti è anche per la riduzione di queste tipologie di impianto. Perché? Perché chiaramente è immune a interferenze elettromagnetiche, non ossida, ha tutti i vantaggi che abbiamo visto nel corso della giornata e consente attraverso il singolo stesso cavetto la distribuzione di un numero enorme di segnali. Quindi TV più SAT più i dati, ad esempio. Portando un servizio dati fino alle colonnine piuttosto che all'interno di bungalow. Questo per dire che cosa? Noi approcciamo in maniera diversa. Chiediamo a voi quali sono le vostre necessità. avete necessità di andare a distribuire segnali da satellite piuttosto che digitali terrestri. Ci chiedete quelli che sono i segnali che volete andare a distribuire. CNN, BBC, piuttosto che Sky, piuttosto che altri segnali presenti in Etere e noi vi forniamo la soluzione che per voi è più confacente. Suggerendovi la tipologia di impianto da realizzare, quelli che sono i prodotti che sono più adeguati alle vostre effettive esigenze. Qualche esempio. Hotel Excelsior a Venezia dove avviene la mostra del cinema, ad esempio. Qua abbiamo realizzato un impianto in fibra ottica misto IPTV con più di 100 canali. Scusate. Porta Nuova Milano un impianto TVSAT in fibra ottica. Immagino che lo conosciate molto meglio di me. Castello Orsinia Roma sistema TV e Pay TV TVSAT e Pay TV. Prima vi dicevo che la fibra è un veicolo molto importante per ridurre i lavori in muratura. Secondo voi all'interno di questo edificio sono state realizzate nuove canali nuove scanalature. Assolutamente no. La fibra è stata passata su canali già presenti. Base nata a Vicenza 1200 residenze in fibra ottica più CATV. La terra dei consoli a Roma con più di 2000 prese servite in fibra ottica. l'ultimo Chiad Village alle Maldive. Un ulteriore vantaggio è quello che vi dicevo prima la non ossidazione della fibra porta a far sì che l'utilizzo in condizioni come queste dove la sacedine è presente sull'oceano possa creare dei danni estremamente gravi ai cavi coassiali. Quindi la fibra in questo caso è ulteriormente particolarmente indicata. Io con questo ho concluso vi ringrazio.